Ah, che bello! Dopo quella lunga permanenza in prigione, finalmente mi godo la liber... Oh, cavolo! No! No! Oh no! Di nuovo! Perché? Pronto? Ok. Saluta, pover culo! No, non così! Ti ho detto che io ti dicevo saluto, ma tu non devi salutare, devi ignorarmi! E non capisci mai niente, però quando dobbiamo fare queste scenette, sei sempre il solito bobar culo! E non è per insultarti, ma c'era un momento... Fermo! Malato di un pupazzo scemo! Ehi, ragazzi! Sono bobar culo! Sapete che c'è? L'ultima volta Lion mi ha preso in giro, perché io gli ho detto che Scribblenauts vi sta piacendo molto per merito mio! Lui ha detto che non è vero e che io non conto quasi nulla, ma secondo me non è vero, secondo me! Io sono bello e simpatico e voi mi amate! Dimostriamoglielo nel modo che lui capirà meglio quel Lion presuntuoso, lasciando un sacco di pollici in su, solo perché bobar culo ve lo chiede! Eheheheh! Lion rosicherà tantissimo! Se superate i 20.000, oh, lo vedremo viola dall'invidia! Smettetela! Smettetela tutti e due subito! Smettetela di azzuffarvi, smettetela di parlarmi nelle orecchie, state fermi e zitti! Tutti e due! No! Non potete partecipare entrambi all'episodio di Scribblenauts, d'accordo? Siete pesanti, sulle spalle tutti e due, come due avvoltoi sulla spalliera, non potete stare! Ed è inutile che mi guardate così tutti e due, d'accordo? No! Uno per volta! Ah! Fermatevi! Smettetela subito! Vi ho detto lasciatemi stare! Ah, ho detto fermi! L'altra volta c'è stato il bobar culo, questa volta c'è il bobar culo normale! D'accordo? Va bene per tutti? Bene! Oh! Chi me l'ha fatto fare a convivere con questi pupazzi? Bobar culo! Ma cosa ti è successo? Vieni qua! Eri appeso al soffitto! Chi ti ha fatto questo? Dimmi, chi è stato? Cosa? Davvero? Ragazzi, bobar culo dice che... C'è un altro handpuppet, uno come lui! Uno cattivo però! Come? Dice di chiamarsi il bobar culo! Che si è nascosto da qualche parte nella mia stanza! Voi l'avete visto per caso? Che aspetto aveva? Am, am! Non so che gioco fare! Non so che gioco fare! Il gioco perfetto! Come mi è potuto sfuggire per tutto questo tempo! Bobar culo? Che ci fai tu nel mio letto? Sono il dio più malvagio mai esistito! Sono malevolo lionusus! Eh, guardate che cosa... Faccio paura, no? Cioè, terrore, suppongo! Ho feduto dopo! Ciao!